Di Luigi Pirandello. Il fu Mattia Pascal. Voce di Lorenzo Pieri. Capitolo quindicesimo. Io e l'ombra mia. Prima parte. Mi è avvenuto più volte svegliandomi nel cuor della notte. La notte in questo caso non dimostra veramente d'aver cuore. Mi è avvenuto di provare al buio, nel silenzio, una strana meraviglia, uno strano impaccio al ricordo di qualche cosa fatta durante il giorno alla luce, senza badarci. E ho domandato allora a me stesso se a determinar le nostre azioni non concorrano anche i colori, la vista delle cose circostanti, il vario frastuono della vita. Ma sì, senza dubbio, e chissà quant'altre cose. Non viviamo noi, secondo il signor Anselmo, in relazione con l'universo. Ora sta a vedere quante sciocchezze questo maledetto universo ci fa commettere, di cui poi chiamiamo responsabile la misera coscienza nostra, tirata da forze esterne, abbagliata da una luce che è fuori di lei. E all'incontro quante deliberazioni prese, quanti disegni architettati, quanti espedienti macchinati durante la notte non appaiono poi i vani, e non crollano e non sfumano alla luce del giorno. Com'altro è il giorno, altro la notte, così forse una cosa siamo noi di giorno, altra di notte. Miserabilissima cosa in me, così di notte come di giorno. So che aprendo dopo quaranta giorni le finestre della mia camera, io non provai alcuna gioia nel riveder la luce. Il ricordo di ciò che avevo fatto in quei giorni al buio me la offuscò orribilmente. Tutte le ragioni e le scuse e le persuasioni che in quel buio avevano avuto il loro peso e il loro valore non ne ebbero più alcuno, appena spalancate le finestre, o ne ebbero un altro al tutto opposto. E in vano quel povero me, che per tanto tempo se n'era stato con le finestre chiuse e aveva fatto di tutto per alleviarsi la noia smaniosa della prigionia, ora, timido come un cane bastonato, andava presso a quell'altro me, che aveva aperte le finestre e si destava alla luce del giorno, accigliato, severo, impetuoso. In vano cercava di stornarlo dai foschi pensieri, inducendolo a compiacersi piuttosto d'innanzi allo specchio del buon esito dell'operazione della barba ricresciuta e anche del pallore che in qualche modo mi ingentiliva l'aspetto. Imbecille, che hai fatto, che hai fatto? Che avevo fatto? Niente, siamo giusti. Avevo fatto all'amore. Al buio era colpa mia, non avevo veduto più ostacoli e avevo perduto il ritegno che m'ero imposto. Papiano voleva togliermi Adriana. La signorina caporale me l'aveva data, me l'aveva fatta sedere accanto e si era buscato un pugno sulla bocca, poverina. Io soffrivo e naturalmente, per quelle sofferenze, credevo come ogni altro sciagurato, leggi uomo, d'aver diritto a un compenso e poiché l'avevo allato, me l'ero preso. Lì si facevano gli esperimenti della morte e Adriana, accanto a me, era la vita, la vita che aspetta un bacio per schiudersi alla gioia. Ora Manuel Bernaldez aveva baciato al buio la sua pepita e allora anch'io. Mi buttai sulla poltrona con le mani sulla faccia, mi sentivo fremere le labbra al ricordo di quel bacio. Adriana, Adriana, che speranze le avevo acceso in cuore con quel bacio. Mia sposa, è vero, aperte le finestre, festa per tutti. Rimasi, non so per quanto tempo, lì, su quella poltrona, a pensare, ora con gli occhi sbarrati, ora restringendomi tutto in me, rabbiosamente, come per schermirmi da un fitto spasimo interno. Vedevo, finalmente, vedevo in tutta la sua crudezza la frode della mia illusione. Che cos'era, in fondo, ciò che mi era sembrata la più grande delle fortune nella prima ebrezza della mia liberazione. Avevo già sperimentato come la mia libertà, che a principio mi era parsa senza limiti, ne avesse purtroppo nella scarsezza del mio denaro. Poi mi ero anche accorto che essa, più propriamente, avrebbe potuto chiamarsi solitudine e noia, e che mi condannava ad una terribile pena, quella della compagnia di me stesso. Mi ero allora accostato agli altri, ma il proponimento di guardarmi bene dalla riallacciare fosse anche debolissimamente le fila recise a che era valso. Ecco, s'erano riallacciate da sé quelle fila, e la vita, per quanto io già in guardia mi fossi opposto, la vita mi aveva trascinato con la sua foga irresistibile, la vita che non era più per me. Ah, ora me ne accorgevo veramente, ora che non potevo più, con vani pretesti, con infingimenti quasi puerili, con pietose, meschinissime scuse, impedirmi di assumer coscienza del mio sentimento per Adriana, attenuare il valore delle mie intenzioni, delle mie parole, dei miei atti. Troppe cose, senza parlare, le avevo detto, stringendole la mano, inducendola a intrecciar con le mie le sue dita. E un bacio, un bacio, infine, aveva suggellato il nostro amore. Ora, come risponder coi fatti alla promessa? Potevo far mia Adriana? Ma nella gora del molino, là, alla stia, ci avevano buttato me e quelle due buone donne, Romilda e la vedova pescatore. Non saranno mica buttate loro? E libera, dunque, era rimasta lei, mia moglie, non io, che m'ero acconciato a fare il morto, lusingandomi di poter diventare un altro uomo, vivere un'altra vita. Un altro uomo, sì, ma a patto di non far nulla. E che uomo, dunque? Un'ombra d'uomo. E che vita! Finché m'ero contentato di star chiuso in me e di veder vivere gli altri, sì, avevo potuto bene o male salvar l'illusione che io stessi vivendo un'altra vita. Ma ora che a questa m'ero accostato, fino a cogliere un bacio da due e care labbra, ecco, mi toccava ritrarmene inorridito, come se avessi baciato Adriana con le labbra d'un morto, d'un morto che non poteva rivivere per lei. Labbra mercenarie, sì, avrei potuto baciarne, ma che sapor di vita in quelle labbra. Oh, se Adriana, conoscendo il mio strano caso, lei? No, no, che? Neanche a pensarci. Lei così pura, così timida. Ma seppur l'amore fosse stato in lei più forte di tutto, più forte d'ogni riguardo sociale. Ah, povera Adriana, e come avrei potuto io chiuderla con me nel vuoto della mia sorte, farla compagna ad un uomo che non poteva in alcun modo dichiararsi e provarsi vivo. Che fare? Che fare? Due colpi all'uscio mi fecero balzar dalla poltrona. Era lei, Adriana. Per quanto con uno sforzo violento cercassi di arrestare in me il tumulto dei sentimenti, non potei impedire che non le apparissi almeno turbato. Turbata era anche lei, ma dal pudore, che non le consentiva di mostrarsi lieta come avrebbe voluto di rivedermi finalmente guarito, alla luce e contento. No, perché no? Alzò appena gli occhi a guardarmi, arrossì, mi porse una busta. Ecco per lei. Una lettera? Non credo. Sarà la nota del dottor Ambrosini. Il servo vuol sapere se c'è risposta. Le tremava la voce, sorrise. Subito, dissi io, ma un'improvvisa tenerezza mi prese, comprendendo che ella era venuta con la scusa di quella nota per aver da me una parola che la raffermasse nelle sue speranze. Un'angosciosa, profonda pietà mi vinse, pietà di lei e di me, pietà crudele che mi spingeva irresistibilmente a carezzarla, a carezzare in lei il mio dolore, il quale soltanto in lei, che pur ne era la causa, poteva trovare conforto. E pur sapendo che mi sarei compromesso ancor più, non seppi resistere. Le porsi ambo le mani. Ella, fiduciosa ma col volto in fiamme, alzò pian piano le sue e le pose sulle mie. Mi attirai allora la sua testina bionda sul petto e le passai una mano sui capelli. povera Adriana. Perché? Mi domandò sotto la carezza. Non siamo contenti. Sì. E allora perché povera? Ebbi in quel momento un impeto di ribellione. Fui tentato di svelarle tutto, di risponderle perché, senti, io ti amo e non posso, non debbo amarti. Se tu vuoi però, ma dalli che poteva volere quella mite creatura. Mi premetti forte sul petto la sua testina e senti che sarei stato molto più crudele se dalla gioia suprema a cui ella, ignara, si sentiva in quel punto innalzata dall'amore, io l'avessi fatta precipitare nell'abisso della disperazione che era in me. perché, dissi lasciandola, perché so tante cose per cui lei non può essere contenta. Ebbe come uno smarrimento penosissimo nel vedersi così d'un tratto sciolta dalle mie braccia. Si aspettava forse dopo quelle carezze che io le dessi del tu. Mi guardò e notando la mia agitazione domandò esitante, cose che sa lei per sé o qui di casa mia? Le risposi col gesto, qui, qui, per togliermi la tentazione che di punto in punto mi vinceva di parlare, di aprirmi con lei. L'avessi fatto, cagionandole subito quell'unico forte dolore, gliene avrei risparmiati altri e io non mi sarei cacciato in nuovi e più aspri garbugli. Ma troppo recente era allora la mia triste scoperta. Avevo ancora bisogno d'approfondirla bene e l'amore e la pietà mi toglievano il coraggio di infrangere così d'un tratto le speranze di lei e la mia vita stessa, cioè quell'ombra d'illusione che di essa, finché tacevo, poteva ancora restarmi. Sentivo poi quanto odiosa sarebbe stata la dichiarazione che avrei dovuto farle che io, cioè, avevo moglie ancora. Sì, sì, svelandole che non ero Adriano Meis. Io tornavo ad essere Mattia Pascal, morto e ancora ammogliato. Come si possono dire, si fatte cose. Era il colmo questo della persecuzione che una moglie possa esercitare sul proprio marito, liberarsene lei, riconoscendolo morto nel cadavere d'un povero annegato e pesare ancora, dopo la morte, su lui, addosso a lui così. Io avrei potuto ribellarmi, è vero, dichiararmi vivo allora. Ma chi al posto mio non si sarebbe regolato come me? Tutti, tutti, come me, in quel punto, nei panni miei, avrebbero stimato certo una fortuna potersi liberare in un modo così inatteso, insperato, insperabile della moglie, della suocera, dei debiti, d'unegra e misera esistenza come quella mia. Potevo mai pensare allora che neanche morto mi sarei liberato della moglie? Lei sì di me e io no di lei. E che la vita che m'ero veduta dinnanzi, libera, 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 non fosse in fondo che una illusione, la quale non poteva ridursi in realtà, se non superficialissimamente, e più schiava che mai, schiava delle finzioni, delle menzogne che con tanto disgusto m'ero veduto costretto a usare, schiava del timore d'essere scoperto, pur senza aver commesso alcun delitto. Adriana riconobbe che non aveva in casa veramente di che esser contenta, ma ora, e con gli occhi e con un mesto sorriso, mi domandò se mai per me potesse rappresentare un ostacolo, ciò che per lei era cagione di dolore. No, è vero, chiedeva quello sguardo e quel mesto sorriso. Oh, ma paghiamo il dottor Ambrosini, esclamai fingendo di ricordarmi improvvisamente della nota e del servo che attendeva di là. Lacerai la busta e senza por tempo in mezzo, sforzandomi ad assumere un tono scherzoso, 600 lire, dissi. Guardi un po', Adriana, la natura fa una delle sue solite stramberie. Per tanti anni mi condanna a portare un occhio, diciamo così, disobbediente. Io soffro dolori e prigionia per correggere lo sbaglio di lei e ora per giunta mi tocca pagare. Le sembra giusto? Adriana sorrise con pena. Forse, disse, il dottor Ambrosini non sarebbe contento se lei gli rispondesse di rivolgersi alla natura per il pagamento. Credo che si aspetti anche ad essere ringraziato perché l'occhio le par che stia bene. Ella si sforzò a guardarmi e disse piano, riabbassando subito gli occhi, sì, pare un altro. Io ho l'occhio. Lei. Forse con questa barbaccia. No, perché le sta bene. Me lo sarei cavato con un dito, quell'occhio, che mi importava più d'averlo a posto. Eppure, dissi, forse esso, per conto suo, era più contento prima. Ora mi dà un certo fastidio. Basta, passerà. Mi recai allo stipetto a muro in cui tenevo il denaro. Allora Adriana accennò di volersene andare. Io, stupido, la trattenni, ma già come potevo prevedere. In tutti gli impicci miei, grandi e piccini, sono stato, come se visto, soccorso sempre dalla fortuna. Ora ecco come essa, anche questa volta, mi venne in aiuto.